Pong, quindi potrei raccontarvi qualche aneddota, una barzelletta, ma in questo momento non me ne vengono assolutamente. Ecco qua, invece mi ha smentito perché il residuato ce ne ha messi 19 di secondi. Allora, abbiamo ottenuto questo file che pong.fna, vediamo un po' com'è fatto. Eccolo qua, questo è il giochino di prima. Ricostruiamolo. E chi lo sa? La decifratura ci mette qualche secondo in più. La cosa interessante è far ripartire il ricostruito e sperare che si possa ancora giocare, se no abbiamo perso Pong sarebbe un peccato mortale proprio. Sarebbe una perdita per l'umanità. Eccolo qua, 32 secondi. E questo qui è quello ricostruito. Vediamo se, che prima non c'era, vediamo se ci fa la bontà di partire. Ed effettivamente funziona ancora, vai. Però perdi sempre. Sì, però dovresti vedere con questo mouse, è difficilissimo il giocare. Insomma un po'. Ok. Grazie. Grazie mille. Ok, allora ringraziamo Mario Rostano. Grazie a tutti.